Debito pubblico più pesante, mutui e prestiti più cari, un effetto freno a mano per la crescita e una reazione dei mercati che pesa soprattutto sull'Italia, che vede i BTP valutati come più rischiosi perfino dei bond greci. Il rialzo dei tassi deciso ieri dalla Banca Centrale Europea accende lo scontro tra Christine Lagarde e il governo di Roma, unito nella critica a Francoforte per Matteo Salvini, così si distrugge il risparmio, gli fa eco l'altro vicepremier Antonio Tajani. Aumentare i tassi di interesse in Europa dove l'inflazione è causata dal costo dell'energia non ha un senso. E di regalo di Natale aveva scritto su Twitter con sarcasmo il ministro della difesa Crosetto che aggiunge. Noi rischiamo di avere da una parte un'inflazione che non diminuisce e dall'altra un'economia che va in recessione e le due cose contemporaneamente non sono sopportabili, quindi questo è un tema politico. Malagarde ha chiarito di non avere intenzione di fermarsi. La BCE procederà ad altri rialzi del costo del denaro nel 2023 con l'obiettivo di fermare il caro vita ma anche con effetti diretti sui bilanci delle famiglie. Secondo la Fabi, il principale sindacato del settore bancario, si va verso prestiti mutui al 6% e alcune simulazioni restituiscono le dimensioni della stretta. Chi a gennaio 2022 ha acceso un mutuo variabile a 30 anni per 150.000 euro passerebbe in un anno da 482 a 847 euro di rata mensile, un salasso da aggiungere al conto dell'inflazione, ferma a più 11,8% con spese alimentari e tariffe sempre più difficili da sostenere.